Si allarga a macchia d'olio l'inchiesta sui rimborsi del Consiglio regionale. La Procura di Reggio Calabria ha infatti chiesto ed ottenuto una proroga del termine per la chiusura delle indagini. Proseguirà dunque per un altro paio di mesi l'inchiesta che sta facendo tremare Palazzo Campanella e i consiglieri regionali che negli ultimi anni si sono avvicendati tra i banchi della maggioranza e dell'opposizione. Per il procuratore aggiunto Ottavio Sferlazze e per il PM Matteo Centini che coordinano le indagini effettuate sul campo dagli uomini della Guardia di Finanza il sistema è trasversale. Sul registro sono stati scritti altri 31 nomi che fanno salire a 44 il numero degli indagati totali. Tra di loro figurano anche 13 capigruppo. Senza alcuna distinzione di colore e di appartenenza politica nel mirino ci sono due diverse legislature, quella che volge al termine la precedente. La tesi dell'accusa è sempre la stessa e sembra una prassi consolidata. Consiglieri regionali che si fanno rimborsare spese per attività che niente hanno a che fare con la politica. Nel calderone delle fiamme gialle è finito di tutto, persino fatture per l'acquisto di arredi per il bagno e detersivi. E mentre la Procura della Repubblica tiene sempre accesi i riflettori sulle spese della casta su Palazzo Campanella si abbatte un nuovo fulmine. Arriva dalla Corte dei Conti che è giudicato irregolare la gestione dei fondi affidati nel corso del 2013 ai gruppi consigliari, oltre 1.300.000 euro di spesa rendi contata. Quanto basta per una censura che vale la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e una nuova tegola sull'astronave.